Avvocato Zaccaria, quali sono secondo lei gli errori da evitare nell'affidamento dei mandati esterni? L'errore più importante secondo me è quando si affida un mandato a un legale esterno e non chiarire sin da subito le regole del gioco, nel senso a meno che non ci sia un rapporto consolidato tra cliente e studio che evita qualsiasi tipo di discussione anche successivamente, magari già delineare quelli che sono i confini del mandato, non solo a livello di argomento da trattare o di metodologia di trattamento del mandato o di gestione del mandato, ma anche per esempio le tariffe potrebbe essere un qualcosa che può evitare le spiacevoli discussioni anche dopo. Grazie Avvocato. Grazie. Grazie.